Siamo qui a Pietracudello in compagnia di due giovani ragazzi del San Marino Calcio, Manuel De Santis e Salvatore Del Sole. Allora Manuel De Santis, talentuoso tersino in cima al Titano, dici cosa ne pensi della partita di domenica? Andiamo a giocare a San Bonifacio, una squadra molto quadrata, sono tra le prime quattro in classifica. E dai ce la metteremo tutta, speriamo bene insomma, poi con un centrocampo con Del Sole. Hai dalla tua il fatto di giocare con un centrosinistra fortissimo, Salvatore Del Sole. Sì, mi sento molto fortunato di averlo conosciuto sia come ragazzo che come giocatore, credo che sia uno dei più forti in circolazione e più bravo anche come ragazzi. Grazie Manuel, adesso passiamo a Salvatore Del Sole, talentuoso centrocampista del San Marino Calcio, dici cosa ne pensi di domenica? Domenica non so se sarò della partita, però spero di far parte del gruppo perché sarà una paletta molto importante e quindi speriamo di vincere. Siamo i due ragazzi e la comparsa Salvatore Del Sole per questa intervista, alla prossima. Ciao mamma! Ciao, ciao mamma, ciao!